Sono una ricercatrice del gruppo Pampers e vi presento una grande rivoluzione. Pampers ha creato la tecnologia Ultra. I pannolini tradizionali hanno fluff assorbente ma ingombrante. Invece i Pampers Ultra sono fatti principalmente di microsfere super assorbenti e poco ingombranti. Vedi la differenza? Hanno il 30% di ingombro in meno, ma assorbono pipì normali e da campioni. E il tuo bambino sarà asciutto e talmente comodo che per lui sarà come non averlo addosso. Pampers, una vera rivoluzione!